Salve a tutti ragazzi, oggi andremo a stirarci i cappelli insieme, come mi ha suggerito uno di voi nel precedente video. Allora, iniziamo subito, anche se li ho stirati stamattina, però l'importante è farvi vedere il procedimento. Utilizzo questa stazzola qui. Andiamo a scioglierli, non vi spaventate, prima li perdiamo tutti insieme. Non vi spaventate, non vi spaventate. La piastra che utilizzo io è questa, è la Jack Pee Gold, non sbaglio, di qualche anno fa. Ancora va molto bene. Andiamo a mettere la spina nel centro. Andiamo a mettere la spina. Eccola qui. Dividiamo i capelli. Io faccio così, nulla di professionale e nulla di che vi serva come insegnamento perché facciala bene e meglio. Così ho queste due sezioni qua, arrivato di nuovo a pettinarli. Procediamo con questo, questa quantità. con questo pettine. Allora, ho dimenticato, c'è un termoprotettore. Ora, sto usando questo qui. Allora, ho dimenticato, c'è un termoprotettore. Allora, ho dimenticato, c'è un termoprotettore. Poi seguiamo. Appena sono soddisfatta di questa gioca, la mando indietro e cominciamo a mettere il termoprotettore. Pettine con queste altre. Per l'agrazione. C'è questo tipo di metodo? Grazie a tutti. 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 Grazie.